Buongiorno a tutti e ben ritrovati, sono Roberto Mazzoni di Mazzoni News, sono un giornalista professionista italiano che vive in Florida e che vi aggiorna sulle elenzioni presidenziali statunitensi. Questo è un video molto importante, vi diamo una notizia veramente importante per l'evoluzione della contestazione rispetto ai brogli che sono verificati negli Stati Uniti e che sono stati contestati da centinaia e centinaia di testimoni e avviene tra l'altro questa notizia esce in una giornata chiave e fra poco vi spiegherò perché. Voglio innanzitutto ringraziare mia moglie Maria che mi sta dando un sostegno enorme in questo periodo di lavoro intenso e che tra l'altro è stata la prima a segnalarmi questa notizia stamattina in modo che mi potessi gettare sulla cosa e subito parlarvene. Però prima di arrivare al dunque volevo giusto fare una precisazione, qualcuno di voi mi ha segnalato il fatto che su un video precedente, quello dove si parlava dei postini arrestati per aver buttato via le schede elettorali non ci fosse la fonte, l'ho aggiunta sotto il video, ho segnato le fonti, sono due televisioni locali di cui ho fatto la registrazione, uno è 41 Action News KSHB di Kansas City e fa parte del network CNBC che non mi sembra essere un netto favorevole a Trump, l'altra è una giornalista si chiama Tony Yates del New Jersey che tiene una rubrica che si chiama Eyewitness News e la televisione WABC TV del network ABC che di nuovo non mi sembra favorevole a Trump. Bene, quindi abbiamo chiuso questo capitolo, per inciso io quando posso metto i link di riferimento, di solito metto link generali alle fonti generali perché i link specifici vengono tolti, vengono bloccati da Google quindi diventa poi impossibile per me non avendo dietro un'intera redazione a stare dietro tutte queste cose, però se serve qualche chiedimento se posso lo do volentieri. Bene, ora veniamo alla giornata di oggi, alla notizia fenomenale di oggi che è questa. Lo Stato del Texas ha presentato un ricorso direttamente alla Corte Suprema degli Stati Uniti nella notte di lunedì, ieri sera, ieri notte, prima di mezzanotte, mettendo in discussione le procedure elettorali in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin. Questo è un evento mondiale, scusate l'esagerazione, ma in effetti ha un'importanza fondamentale. Sicuramente nei media di oggi, nei media tradizionali, mainstream, vi diranno ormai è finita, le azioni di Trump sono terminate, siamo arrivati a quella che è la safe harbor date. safe harbor date sarebbe la data entro la quale le eventuali contestazioni per regolarità nelle procedure elettorali devono essere presentate. Mi spiego meglio. Se una persona dice, secondo me le elezioni non sono state fatte correttamente, ossia le procedure elettorali sono state eseguite in modo corretto, a tempo fino al 8 di dicembre, in questo caso, quindi oggi, per presentare un ricorso che arrivi doveva arrivare, quindi in questo caso doveva arrivare alla Corte Suprema. Come voi sapete, c'era già un ricorso, ne avevamo parlato nei video precedenti, che era già arrivato alla Corte Suprema e che era nelle mani del giudice Samuel Alito, uno dei giudici della Corte Suprema, e che riguardava in particolare la Pennsylvania. Quindi c'era già un processo che è arrivato fino a quel punto. Gli altri processi che erano in corso e che si stavano muovendo sui vari stati non erano arrivati fino alla Corte Suprema. Quindi alcuni hanno detto, ah vabbè, ma se non arriva dentro l'8 dicembre è finita. Ed è quello che sentirete sui giornali. Perché dovete tenere presente che la Corte Suprema è internazionale solo se qualcuno la chiama in causa. Ossia un processo deve arrivare fino alla Corte Suprema, non si muove spontaneamente, deve esserci una procedura legale che arriva fino alla Corte Suprema e che ne chiede l'intervento per chiarire una questione legale. Funziona così. E quindi la maggior parte dei processi che sono partiti nei vari stati hanno fatto dei progressi, ma non abbastanza in fretta. Ci sono stati abbastanza rallentati dai giudici. E come vi dicevo, era importante che fallissero rapidamente, che andassero ai gradi di giudizio successivi per arrivare alla Corte Suprema. Però, di fatto, finora la Corte Suprema è arrivata soltanto uno. Ora, ci sono poi anche varie altre discussioni sul fatto che, per esempio, se il processo che si porta alla Corte Suprema non riguarda unicamente le procedure elettorali, ma riguarda frode, a quel punto la data dell'8 dicembre non ha più significato. Si va oltre. E in particolare gli risentivo Sidney Powell, che chiariva il fatto che, un avvocato che lavora con Sidney Powell, per precisione, che chiariva il fatto che loro pensano di avere tempo fino al 16 dicembre per presentare alla Corte Suprema i ricorsi relativi ai casi di frode, che sono un altro canale. Ok, ci sono tanti canali che stanno muovendo contemporaneamente. Però, per quello che riguarda le irregolarità nelle procedure elettorali, la deadline, la scadenza, era oggi. Bene. E allora il Texas cosa ha fatto? Il Texas, la notte del 7, ha presentato direttamente il ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti, perché il Texas è uno Stato, quindi se ha qualcosa di cui lamentarsi, non può andare dai propri giudici, no? Va direttamente alla Corte Suprema. Quindi abbiamo scavalcato tutti i gradini intermedi, dove c'erano tutti questi vari giudicelli che cercavano di mettere bastoni delle ruote e rallentare con dei cavilli, sostanzialmente, e siamo dati direttamente alla Corte Suprema. Tra l'altro, il Texas, di nuovo, dipende da Samuel Alito, e voglio leggerlo per non dirvelo sbagliato, che è uno dei giudici della Corte Suprema. Ed è lo stesso giudice che qualche giorno fa aveva detto al Michigan, scusatemi, alla Pennsylvania, cari signori della Pennsylvania, voi dovete presentarmi eventuali ricorsi sulla questione che è stata sollevata relativamente alle regolarità procedurali nel vostro Stato, entro mezzogiorno dell'8 dicembre. Quindi aveva anticipato la scadenza, perché lui aveva dato fino alla fine del giorno dell'8, quindi il 9 praticamente, per essere sicuro che nessuno contestasse la questione, lui l'ha anticipata a mezzogiorno. E il Texas arriva a mezzanotte del giorno prima, quindi gli eventuali legali dell'opposizione del Partito Democratico hanno avuto da mezzanotte fino a mezzogiorno, ormai è passato, per presentare un eventuale contro ricorso. Non so cosa sono riusciti a fare. Però il colpo del Texas è geniale, perché è uno Stato che denuncia altri Stati, e come vi dicevo prima, denuncia la Georgia, il Michigan, la Pennsylvania e la Wisconsin, per aver violato le loro stesse leggi elettorali. Cioè in pratica, e poi vi leggerò esattamente il testo, così siamo coerenti, siamo allineati sull'originale. Il Texas dice, cari signori, voi nei vostri Stati avete modificato le procedure elettorali, e le avete modificate per iniziativa o del governatore o della Corte Suprema locale, quindi del potere giudiziario o del potere esecutivo, senza consultare il Parlamento che è l'unico depositario di questo potere. Cioè le leggi possono essere modificate soltanto dal Parlamento, ma voi ci siete andati intorno con la scusa della pandemia. Quindi questo è regolare, questo è regolare perché ha creato una situazione di, evidentemente, di mancato controllo, tra l'altro all'interno del vostro stesso Stato avete applicato due pesi e due misure, in alcune con te dove c'erano voti che non vi facevano comodo, avete messo misure restrittive, nelle altre con te dove invece vi servivano conti in più, avete aperto le porte. E quindi questa è una violazione, è una violazione della vostra stessa legge, e siccome questa è una violazione della vostra stessa legge, della vostra stessa Costituzione, voi non state rispettando le regole della Costituzione federale, vale a dire avendo inquinato il vostro voto statale, all'interno del vostro Stato, voi avete compromesso anche il nostro voto e il voto di tutti gli altri Stati. Perfetto. Quindi a questo punto nessuno può dire che non ci sono stati ricorsi alla Corte Suprema, perché è arrivato, è arrivato a mezzanotte, e tira in ballo direttamente quattro Stati, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, a Trump ne bastano tre, per ribaltare completamente la situazione. E come vedremo, il Texas è molto chiaro, dice, voi avete violato questo, noi non possiamo andare in altro posto che non alla Corte Suprema, perché siamo uno Stato, e chiediamo quindi che in questi quattro Stati, tutto quello che è stato fatto, le certificazioni e tutto il resto, venga buttato via, e che quindi gli elettori, i grandi elettori, quelli che leggeranno il Presidente, vengano nominati direttamente dal Parlamento, dei singoli Stati. Quindi torniamo alla strategia della nomina diretta, che tra l'altro è prevista dalla Costituzione, ok, dalla Costituzione federale. Nel momento in cui i Parlamenti di questi quattro Stati nominano loro i grandi elettori, vince Trump. Se nel frattempo, perché potrebbe succedere, perché adesso la Corte Suprema dovrà fare il suo giro, dovrà fare tutte le sue procedure, se nel frattempo venisse anche nominato, virgolette Biden, non ha neanche significato, perché la Corte Suprema può annullare tutto, e dice, si rifà la votazione, no problem, ok? Quindi questo è stato un colpo magistrale, che ha di fatto eliminato completamente il problema della safe harbor date. Quindi per quello che riguarda le procedure, le violazioni di procedure elettorali, perché il Texas non contesta, non dice che ci sono stati i brogli, dice, noi non sappiamo che ci sono stati i brogli, ci sono dei segnali che ci sono stati i brogli, qualcosa non è andato per il verso giusto, però noi semplicemente diciamo, siamo 50 Stati, tra di noi ci siamo messi d'accordo per fare le elezioni in una certa maniera, perché poi c'è una Costituzione generale federale che ci dà delle direttive guida. E la Costituzione federale dice che le procedure elettorali dei singoli stati vanno stabilite dai parlamenti dei singoli stati. Bene, questi quattro stati sono stati modificati da qualcun altro, e il Parlamento non li ha mai provati, quindi è una violazione della Costituzione federale, noi che siamo membri della stessa federazione non riconosciamo la votazione che avete fatto voi. Chiaro? È semplice. Quindi, come questo si evolverà? Non lo sappiamo, ok? Io di nuovo, io vi racconto quelli che sono gli sviluppi, quelli che sono le strategie, quelle che sono le direzioni. Non posso anticiparvi i risultati, perché sennò sarei in una posizione decisamente diversa da quella a cui sono adesso. Non ho il telefono, la linea rossa con Trump o con la Corte Suprema. Ma questo evento è un evento di proporzioni notevoli, perché di fatto annulla definitivamente, è completamente tutto il lavoro di sbarramento fatto dai giudici di livello inferiore che hanno cercato di ostacolare l'arrivo dei processi mobilitati, preparati dai vari legali, sia dalla campagna di Trump, sia indipendenti, verso la Corte Costituzionale, la Corte Suprema. E ci sono dei processi che andranno avanti comunque, che si pensa possano arrivare alla Corte Suprema, ma saranno per frode, e quindi non riguardano le procedure elettorali. Perciò hanno tempi diversi. Ok, perfetto. Adesso vi leggo quello che ci dice il Texas. E loro contestano in particolare la violazione della Equal Protection Clause della Costituzione. Quindi una clausola che prevede che si debba garantire diritto uguale a tutti i cittadini della Federazione, degli Stati Uniti. Tutti devono avere una protezione identica dei propri voti. Quindi sia i cittadini dei singoli stati, perché Texas dice a questi quattro stati voi avete violato i diritti dei vostri stessi cittadini perché avete modificato le procedure elettorali senza sentire i rappresentanti eletti dai vostri cittadini. Quindi avete violato i loro diritti. Ma in più avete violato i diritti anche dei nostri, perché a questo punto i nostri hanno eletto, hanno espresso un giudizio. E chiaramente nel Texas ha vinto Trump, non c'è dubbio. E i texani hanno scelto Trump. Siccome voi avete manomesso le vostre elezioni, noi dobbiamo pagare il conto, ci dispiace, non ci siamo. E siccome questa è una cosa che riguarda l'intero Stato, va direttamente alla Corte Suprema. Ok? Perfetto. Allora adesso vi leggo cosa c'è scritto nel ricorso del Stato del Texas. Alcuni funzionali pubblici negli Stati menzionati dal ricorso, che mi ricordo sono Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, hanno utilizzato la scusa della pandemia per ignorare le leggi di ciascuno Stato che determinano come gestire i voti per corrispondenza. Gli Stati menzionati nel ricorso hanno letteralmente inondato le rispettive popolazioni con decine di milioni di schede elettorali per posta e delle relative richieste di invio. Apertamente violando le regole previste nei rispettivi statuti, gli statuti sarebbero le costituzioni, scusatemi, gli statuti sono le leggi dello Stato, di ogni singolo Stato. Per esempio in Florida le leggi si chiamano statuti. Statuto. Ok? Quindi, apertamente violando le regole previste nei rispettivi statuti su come questi voti per corrispondenza dovevano essere ricevuti, valutati e contati. Che fossero meno benintenzionati, vedete, scavalcano completamente il discorso della frode o del broglio. Se ne discuterà in un'altra parte. Qui stiamo parlando di procedure. Che fossero meno benintenzionati, questi atti hanno avuto tutti la medesima conseguenza. Hanno reso le elezioni del 2020 meno sicure negli stati accusati. Tali cambiamenti non sono in linea con le relative leggi di ciascuno Stato e non sono stati approvati da entità non legislative. Quindi sono stati approvati dai giudici di quegli stati e dai governatori di quegli stati. Non sono stati approvati dai parlamenti. Senza il consenso dei parlamenti di ciascuno Stato. Le azioni di questi funzionari hanno di conseguenza violato direttamente la Costituzione. Questo caso rappresenta una questione giuridica. Gli accusati hanno violato l'Elector Clause, che è una delle clausole previste nella Costituzione federale, intraprendendo azioni non legislative per cambiare le regole elettorali che governerebbero la nomina degli elettori presidenziali. Questi cambiamenti non legislativi alle leggi elettorali degli stati accusati hanno facilitato l'accettazione e la conta di voti in violazione delle leggi dello Stato le quali a loro volta hanno violato l'articolo 2, sezione 1, clausola 2 della Electors Clause della Costituzione statunitense. Attraverso questi atti illeciti, gli stati sotto accusa non solo hanno contaminato l'integrità del voto dei loro cittadini, ma le loro azioni hanno anche sviluppo i voti dei loro stessi cittadini e dei cittadini degli altri stati che sono rimasti fedeli alla Costituzione. Quindi loro richiamano l'Elector Clause, quindi la parte della Costituzione che dice come vanno nominati grandi elettori che poi nomineranno Presidente. E quindi loro dicono che questo è una violazione dei diritti del Texas. Allora, perché il Texas e non per esempio la Florida? E questa è una domanda che ci siamo posti stamattina. Io credo, e questa è una mia interpretazione, perché appunto il giudice Samuel Alito, giudice della Corte Suprema, responsabile del quinto circuito a cui appartiene il Texas, è già pronto, è già attivo, ha già creato una registrazione di processo relativo al Michigan, scusatemi, relativo alla Pennsylvania. Quindi la richiesta del Texas, la denuncia del Texas, si inserisce direttamente lì. Quindi si inserisce in una procedura che è già in funzione. Poi sicuramente sono quelli che diranno non è regolare, non c'è da dato tempo, ci opponiamo, normale, no? Però intanto si aggancia su qualcosa che già esiste, per la quale il giudice Alito ha già detto la scadenza è a mezzogiorno di oggi. La scadenza è andata, ok? Tra l'altro, quali saranno gli altri giudici chiamati in causa? Allora, Alito, Samuel Alito è uno dei costituzionalisti. Ve ne parlavo nel video precedente. Nella Corte Suprema ci sono due orientamenti di giudici. Sono i costituzionalisti che interpretano la Costituzione alla lettera. E poi ci sono gli altri non costituzionalisti che, o diciamo, più progressisti, che danno un'interpretazione, ossia dicono, secondo noi, i padri fondatori in realtà intendevano questo. Oppure i tempi sono cambiati, quindi dovremmo aggiustare questi principi secondo questa logica. Ok? Bene. Diciamo che in generale, appunto, i costituzionalisti sono più orientati come punto di vista verso Trump, come idea, e gli altri sono meno orientati verso Trump. Però non è necessariamente una questione di divisione politica in questo caso, è una questione di interpretazione della Costituzione. Bene. Samuel Alito è un costituzionalista, quindi il ricorso è andato a lui. È andato direttamente a lui. E lui, poi, dovrà sicuramente coinvolgere Brett Coveno, che è uno dei giudici della Corte Suprema nominati da Trump, e che è un altro costituzionalista che è responsabile del sesto circuito, da cui dipende il Michigan. E poi, Amy Comey Barrett, che è un altro giudice della Corte Suprema appena nominata, che è responsabile del settimo circuito, da cui dipende il Wisconsin. E infine, Clarence Thomas, che è un giudice di colore, non nominato da Trump, è nominato già da molto tempo, responsabile dell'undicesimo circuito, che è responsabile, da cui dipende la Georgia. Per inciso, Clarence Thomas venne attaccato pesantemente a livello personale da Joe Biden durante l'udienza di conferma quando venne nominato a giudice della Corte Suprema. Cioè, Joe Biden era il presidente della commissione che doveva autorizzare, in qualche modo, senatoriale, che doveva autorizzare la nomina del giudice Clarence Thomas, e Joe Biden diede spazio libero a delle accuse che poi sono dimostrate completamente fasulle, accuse personali di abusi sessuali, cose veramente imbarazzanti, da parte di, appunto, persone che erano, si capiva, che erano lì per semplicemente creare il problema e che poi sono dimostrate del tutto non affidabili. Quindi, diciamo, non è... ha un passato travagliato nei confronti di Joe Biden, giusto, diciamolo così. Quindi, questa è una notizia importante perché è rimettuto in gioco. Quindi, appunto, vedrete sui giornali, vedrete in giro, probabilmente, penso, che diranno è finita. Trump non è riuscito a mettere insieme abbastanza stati per contestare le elezioni dei grandi lettori entro l'8 dicembre, quindi, arrivederci. E invece no. perché il Texas con un colpo solo ha preso quattro stati. Quattro stati che sono i quattro stati tra l'altro nei quali le procedure elettorali sono state cambiate, quindi è dimostrabile. Hanno seguito procedure diverse che non sono coerenti con quelle approvate a livello costituzionale e legale, sono diverse dalle le leggi che erano in funzione fino a prima, appena prima e sono state modificate unicamente con la scusa di far fronte alla pandemia. Ok? Quindi, questa è una notizia enorme. non riesco a sottolineare la sufficienza perché rimette di nuovo tutto in gioco. Ok? Quindi mi auguro di avervi chiarito la situazione nel caso aveste informazioni contrastanti perlomeno avete un inquadramento e vi do appuntamento a più tardi perché più tardi c'è la vera bomba che sta per arrivare. Vi ringrazio di nuovo se questo video vi è piaciuto cliccate mi piace, condividetelo, se volete seguire i miei video iscrivetevi al canale e naturalmente i vostri commenti mi fanno sempre tanto tanto piacere, mi aiutano a capire se sto andando nella giusta direzione o meno e in ogni caso diciamo mi danno energia per continuare. Quindi grazie di cuore e al prossimo video Roberto Mazzoni di Mazzoni News.